Peppa, George, state qui mentre parcheggio! Peppa, saliamo sulla montagna! Va bene, poi scenderemo veloci! Papà non se ne accorgerà! George, sbrigati! Che bello! George, papà sta tornando! Scendi! Peppa, Peppa! Sta arrivando una valanga! Dobbiamo andare! Dov'è George? Papà, George è caduto nella buca! E' stato sommerso dalla valanga! Dobbiamo fare qualcosa! Chiamiamo la Paw Patrol! La nostra missione è ritrovare George e salvarlo! Mettiamoci al lavoro! Unico Quattro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il ghiaccio è così spesso. C'è solo un modo. Sciogliere il ghiaccio. L'ho trovato! George, perché sei salito sulla montagna senza chiedere? Volevo scendere sulla slitta. Grazie per aver salvato mio fratello. Siamo felici di aiutare! E tu ascolti i tuoi genitori? Scrivicelo in un commento. Iscriviti al nostro canale. Ciao!